Finisce questa puntata di Fanny Moon, purtroppo Ettore qua vicino a me non ci vorrebbe stare perché è arrabbiato con me Non si fa così Vabbè dai Ettore E no dai, io ero convinto che stavamo da un'altra parte, mi avete portato con l'inganno invece addirittura all'est Vabbè dai mi piace All'estero proprio Niente, è arrabbiato con me, dai, dai riferimenti Ettore No, da lì tu Dai, come fanno a seguire? No, 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 da lì tu, da lì tu sei arrabbiato Va bene, li do io Allora sapete che per scriverci dovete utilizzare il numero che trovate qua sotto, ma che se lo perdite Il numero è 33338693 Poi mettete un bel pollicione in su nella nostra pagina di Facebook e seguite le puntate che avete perso Un pollice in su Ma io ero stata da retta Un pollice in su Un pollice in su su Facebook Non si fa E poi su Youtube, dai, fammi finire E poi su Youtube seguite le nostre puntate che avete perso accidentalmente Iscrivetevi al canale E io provo a fare pace Proprio accidenti a voi Provo a fare pace con Ettore, dai, mi dispiace, sul serio Non si fa, non si fa No, questa guarda me la sono un po' legata al dito così, non mi passa Dai, beviamoci su, lo vuoi? No, birretti Eh va bene, birretta sì, dai Dai Oh, fammo scherzi? No, no, stai tranquillo, ti giuro, questa volta Nessun viaggio Buonissima fede Sicura Nessun viaggio, per ora nessun viaggio Poi chi lo sa? Vabbè Pace fatta, allora, dai, ci vediamo alla prossima puntata Alla prossima puntata Ciao, smizziamo? Eh sì, dai, per forza Ciao, smizziamo la prossima puntata Anni, moon Ciao, smizziamo la prossima puntata Ciao, smizziamo la prossima puntata